Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale dei Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con RacingTime, il TG dei motori. Allora, prima di lanciare la sigla vi lancio io un quiz, ovvero che cosa c'è di nuovo in questa schermata, che cosa notate di diverso rispetto al video di ieri, vediamo chi indovina. Sigla e poi ne parliamo. Eccoci qua ragazzi, dunque qual è la novità? Iniziamo con i ringraziamenti, guardate qua dietro, la prendo subito e ve la faccio vedere più da vicino, guardate che spettacolo di lampada mi hanno regalato. L'ha realizzata Marco Rigo, o Rigodo, ho ancora capito dove va l'accento, lui è di Milano, è un artigiano di tutte queste robe qua meravigliose, mi ha inviato due lampade, ve le faccio vedere a una a una, una nel video di adesso e un'altra nel video di questa sera e vi dirò di più ragazzi, se volete realizzare questi lavori con tutto ciò che vi piace, non lo so, una pista o piuttosto il logo della vostra azienda, quello che vi pare, io sarei felicissimo se lo faceste con Marco. Quindi se volete entrare in contatto con lui, basta solo mandare un'email a selezione nazionale dei piloti e io vi do il contatto diretto. Comunque è un lavoro veramente meraviglioso, cambia colore, c'è il telecomando, è una figata pazzesca e ringrazio Marco per questo regalo e ci tengo pure a fare una premessa prima di iniziare con i contenuti di questa puntata, ovvero che Marco non mi ha chiesto nulla, mi ha chiesto solo l'indirizzo per mandarmi questo omaggio, sono stato io che ho indagato e ho chiesto che cosa facesse, come li realizzava, tutte queste cose qua e da lì è saltato fuori che lui appunto li realizza conto terzi e quindi è mia l'idea di pubblicizzarlo e assolutamente Marco mi ha fatto questo regalo quindi sono contento non solo di ringraziarti caro Marco in diretta ma anche di farti pubblicità perché tu queste cose qui le realizzi vita natural durante, tra l'altro diciamo che non è proprio il suo lavoro quindi è una cosa che fa per passione e di conseguenza vale ancora di più, per questo ve lo sto dicendo e ripeto se vi fa piacere sapere più o meno che cosa c'è stasera vi faccio vedere la lampada di Monza e sono sono contento di mettervi in contatto diretto con Marco perché è un bravissimo ragazzo, un amico e se lo merita. Adesso partiamo con la puntata perché ragazzi mi chiedevate tantissimo cioè io non ho capito che la cosa era collegata proprio non ci sono arrivato ieri mi è arrivata questa questa richiesta no ci avrei fatto un video altrimenti e cioè di che annuncio si tratta che deve dare la Ferrari qual è la grossa novità contratti piloti questo quell'altro e io rispondevo a tutti no tranquillo devono far vedere che cosa le tute che sfoggeranno in occasione del prossimo gran premio ovvero quello di Las Vegas come vi avevo anticipato ma tanti 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 video fa anche ieri ho parlato di chiare di roba chiara ora non mi ricordo esattamente che cosa avevo detto ci sarà non solo sulle tute ma anche nella monoposto molto di tutto ciò che state vedendo quindi oltre al rosso qual è l'altra cosa che si vede il bianco appunto ci sarà molto bianco già da tempo vi dissi che appunto ci sarebbe stata questa novità coreografica la Ferrari non sarà l'unico team a portare qualcosa di diverso a livello estetico sulla propria vettura però ci sarà appunto anche la Ferrari con il rosso e poi tanto tanto bianco bene come del resto appunto vediamo nelle tute sia nel retro che nella parte anteriore poi un'altra cosa Alonso e qui parliamo un pochettino di ciò che ha detto lui perché vi faccio vedere l'immagine dell'epica sfida Alonso Schumacher a Imola 2005 quando come potete vedere dalla foto si utilizzavano ancora le gomme scanalate che man mano che tu le usavi diventavano delle slick o più o meno quasi ebbene ragazzi Alonso ha detto due cose molto importanti riguardo alla sua sfida con Perez la prima è che ovviamente è stato molto più difficile tenere Perez dietro rispetto a quanto lo fu allora tenere Schumacher per due motivi lui ne ha detto solo uno io aggiungo anche il secondo uno il DRS il DRS quando tu hai dietro uno col DRS è molto più facile che ti passi rispetto a quando uno il DRS non ce l'ha e poi un'altra cosa ragazzi queste vetture quando viaggiavano in scia non come dire non permettevano di vedere questi duelli perché perché molta dell'aria che investiva la vettura che stava davanti veniva sparata direttamente a quella dietro che veniva investita da aria sporca e quindi perdeva stabilità in curva e proprio per questo motivo che nel 2011 venne introdotto il DRS per facilitare i sorpassi una volta che si arrivava in scia si fa per dire perché la scia la prendi adesso molto più facilmente con le vetture a effetto suolo da qui questo tipo di regolamenti e poi il secondo motivo è proprio questo che adesso le vetture stanno molto più facilmente una dietro l'altra invece prima era più difficile perché la seconda vettura quella che seguiva veniva disturbata dalla scia che gli mandava in faccia la prima dall'aria sporca turbolenta tutta disturbata che gli mandava praticamente addosso la vettura che la precedeva adesso c'è come dire un effetto diverso dell'aria che viene mandata molto più in alto e lo vediamo pure quando ci sono i gran premi bagnati che la nuvola d'acqua che viene sprigionata è molto più grande perché noi la vediamo più alta poi l'acqua ricade e in poche parole nei noi spettatori nei piloti vedono nulla ecco perché adesso le gare bagnate sono diventate un problema ancora maggiore dal punto di vista della visibilità ma non solo da quel punto di vista perché ricordiamoci che le vetture a effetto suolo viaggiano bassissime e non si possono toccare per via del regime di parco chiuso regola totalmente ridicola e anacronistica visto le esigenze che ci sono oggi e visto le condizioni climatiche mutevoli alla velocità della luce e quindi tu ti trovi ad avere una previsione di sole e poi possibilmente mette acqua quindi sarebbe ora di cambiare questo tipo di regolamento questi sono i due motivi che hanno come dire reso molto più difficile il duello con Perez rispetto a quello con Schumacher nel 2005 e poi però Alonso ha detto un'altra cosa attenti perché lui è vero ha detto adesso è possibile fare di questi duelli cioè grazie al drs io sono stato attaccato ma ho potuto anche controbattere l'attacco di Perez e quindi tagliare il traguardo davanti a Perez però si è soffermato anche su un altro particolare che è quello legato al disegno della pista ne abbiamo parlato più volte interlagos ha un rettilineo lungo poi una serie di tre curve e poi un altro un'altra retta non lunghissima ma che comunque consente di rimanere sotto drs e quindi ricambiare il favore a quello che ti ha appena superato dove voglio arrivare voglio arrivare a un fatto che se questo gran premio non si fosse corso in Brasile noi questo duello non l'avremmo visto perché perché oltre al fatto che tu ti metti sul dritto da una serie di curve dove Alonso costruiva gran parte del suo vantaggio e vi ho fatto vedere un pochino in una puntata qual era la curva dove lui metteva un gap importante tra se stesso e Perez ma immaginatevi una pista dove c'è un lungo rettilineo e poi tante 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 curve 4 5 6 prima di arrivare alla seconda zona drs che cosa succede succede che tu non puoi più rendere pan per focaccia a quello che ti ha appena superato e noi non avremmo visto o non avremmo goduto di questo incredibile duello che ci ha restituito un Alonso in formato leone non da tastiera da pista che è ben diverso e quindi dove voglio andare a parare voglio andare a parare con un'osservazione sarebbe molto più opportuno avere il push to pass rispetto al drs perché questa volta il drs ci è venuto incontro regalandoci qualcosa di meraviglioso ma non tutte le piste offrono una possibilità del genere ai piloti che si sfidano a suon di drs tutto qui andiamo a un'altra notizia la thg cioè quello che leggete qui è un nuovo sponsor della williams perché vi dico questa cosa perché mi fa piacere che un marchio storico come la williams si potenzi in vista della prossima stagione io sarei felicissimo di vederlo di nuovo in vetta come stato per la mclaren però ovviamente loro hanno bisogno di budget per raggiungere il top del budget cup che forse già tra l'altro lo raggiungono quest'anno però per una scuderia così piccola non è mai una cosa così scontata quindi sono contento che sia entrato questo nuovo sponsor andiamo avanti e parliamo del mugello che ha ospitato da pochissimo lo sappiamo le finali mondiali della ferrari tra l'altro la persona che la manina rossa vi sta indicando è benedetto vigna allora parliamo di due cose uno mugello di chi è della ferrari questo è il calendario della prossima stagione dell'european le man series e come potete vedere la penultima tappa si correrà al mugello questo che cosa significa significa che il mugello punta all'obiettivo grosso ovvero il mondiale uec cioè l'endurance il mondiale endurance ed è una cosa bella è una cosa bella per l'italia è una cosa fantastica anzi direi poi sarebbe stupendo mantenere sia la prova di monza che averne un'altra chi lo sa oppure forse si metteranno in concorrenza diretta sarebbe stupendo vedere il mondiale se proprio dobbiamo avere una tappa avere un'alternanza tra monza e tra il mugello perché no anche imola però questo significa anche un altro discorso che è positivo e negativo allo stesso tempo positivo perché la ferrari punta forte nel uec e questo mi fa solo piacere vincere di nuovo le man o piuttosto andare a conquistare il titolo mondiale nell'endurance sarebbe un successo molto molto importante d'altro lato però ragazzi io da benedetto vigna vorrei vedere lo stesso impegno che mette nel uec anche per la formula 1 vorrei vedere più spesso la sua presenza visto che l'amministratore delegato della ferrari visto che ha un potere decisionale molto molto ampio e perché no allora vederlo in pista in più di un'occasione a prendersi gloria quando si va bene ma anche responsabilità quando le cose vanno come in brasile non voglio criticare nessuno men che meno benedetto vigna che mi dicono essere una persona molto in gamba molto umile sono felice che sia così però vorrei una presenza più forte della dirigenza in formula 1 della dirigenza ferrari in formula 1 perché perché tutto questo alla fine diventa anche inevitabilmente potere politico se tu hai grossi capi che frequentano la pista inevitabilmente cioè parli con questo parli con quello salta fuori quel problema fai sentire il peso di una casa storica come la ferrari non dimentichiamoci che noi nel 2022 non dico che l'abbiamo perso ma non ci si hanno giocati un mondiale fino alla fine per la direttiva tecnica 39 che è entrata per andare incontro a una casa la mercedes invece è andata totalmente incontro a un'altra la red bull ma è andata totalmente contro la ferrari che era stata l'abbiamo detto fino alla nausea in questo canale era stata progettata per un tipo di regolamento che poi in corso d'opera è cambiato e non va bene è come se nel 2026 dai mettiamola così i motori si è deciso di avere un motore elettrico che abbia una determinata potenza uno termico che ne abbia un'altra tutti i costruttori che già sono al lavoro per quei motori lì iniziano a come dire a progettare a sviluppare tutto per questo tipo di regolamento e poi arriviamo a agosto 2026 e ci dicono no ragazzi il 30 per cento della potenza arriva dall'elettrico il 70 dal termico e tutti i costruttori che hanno lavorato in quel senso lì magari ad alcuni va bene a quelli cioè che hanno un motore elettrico meno performante però ad altri no e questo non è una cosa che funziona anche se fatta in nome della sicurezza però si poteva agire secondo me in tutt'altra maniera e soprattutto non critico chi si è mosso per la sicurezza per carità assolutamente no non mi va di fare polemiche però avere un potere più forte avrebbe aiutato e quindi avere benedetto vigna più presente lasciamo perdere john elkan ma avere benedetto vigna più presente ai gran premi sarebbe una gran cosa non c'è dubbio su questo andiamo avanti perché parliamo di piloti innanzitutto voglio fare il mio più grande in bocca al lupo uno dei a uno dei miei piloti ovvero matteo tomaselli che proprio oggi questa è una foto della fuga come l'ha chiamata lui è stato dimesso dall'ospedale dove è stato ricoverato e operato e se ricordate ne avevamo parlato avevamo detto di questo pilota che ho fatto vedere a podio che doveva affrontare questo passo importante è andato tutto bene adesso inizia la rimonta e sono sicuro che matteo farà una grandissima rimonta innanzitutto tanti saluti e in bocca al lupo da parte mia ma anche ovviamente gliele ho fatti di presenza ma anche da parte di tutti gli iscritti al canale sono sicuro che mi appoggerete in questa iniziativa poi altra cosa parliamo di un altro pilota perché oggi con mia enorme sorpresa ho scoperto che javier villa ci segue wow chi è javier villa è un pilota spagnolo che oggi corre nel rally ad altissimo livello ma che ieri ragazzi ha avuto a che fare anche con questa con questa vettura così tanto per ovvero ragazzi stiamo parlando della williams e bmw f1 nel 2007 lui ha avuto il piacere di guidarla in pista era un pilota del programma bmw quindi un pezzo grosso ha vinto e tante gare ha corso in formula 2 in formula 3 e poi ha deciso di ripiegare nei rally ripeto ad alto livello guida una toyota quest'anno e oggi ho scoperto che ci segue quindi un grande saluto a javier e grazie di averci dato come dire questa soddisfazione perché per noi è un onore sapere di avere anche piloti di un certo livello che seguono la selezione nazionale piloti e quindi racing time grazie infine chiudiamo con due notizie una di tecnica e l'altra no allora iniziamo con l'altra no perché domenica 12 novembre saremo in pista assieme alla crg driver academy ad avola sul circuito di avola che è veramente una gran bella pista e il crg driver academy ci ha chiesto questa collaborazione e andremo con i campioni dell'snp 2023 è più uno un ragazzino che ci hanno appositamente richiesto poi vedrete tutto comunque volevo dirvi che se siete in zona potete venirci a trovare a me farebbe indubbiamente un grande piacere il tutto dovrebbe iniziare verso le 10 del mattino quindi io sto là e se venite tempo permettendo ovviamente meteo permettendo ci possiamo trovare tutti in pista a divertirci e poi un'altra cosa nel video di questa sera perché adesso siamo a 20 minuti risponderò a questa domanda che parla di prestazioni di gomma nuova e gomma usata al di là del fatto che come dire ok una gomma nuova va meglio però se vi chiedo il perché va meglio voi che cosa mi rispondete scrivetelo nei commenti perché la domanda è veramente affascinante ce la fa giuseppe gius 61 75 di cui già avevamo parlato per un'altra domanda che ci aveva posto è veramente affascinante perché vi fa capire anche la differenza che c'è nel preparare un set di gomme perché abbiamo visto che a volte si fa un giro d'attacco molto forte poi la gomma cade perché cade di prestazioni a volte invece si fa un'introduzione lenta in questa a proposito il mondiale cambia nome non ve l'avevo detto ma pensavo che lo sapevate f1 gomma si chiama perché ormai è tutto gira tutto attorno agli pneumatici quindi da oggi in poi il mondiale di formula 1 si chiamerà f mondiale di formula 1 gomma o f pneumatici fate voi comunque dai battute a parte a me non piace una formula 1 dove tu devi fare un'attenzione incredibile a non andare troppo nel giro di lancio e poi nel primo cronometrato perché sennò rischi di bruciare la gomma di farla andare oltre temperatura quello che succede quando il pneumatico va oltre temperatura ebbene se siete curiosi ne parleremo nel video di questa sera per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un like un commento condividete il video sui vostri social attivate la campanellina e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto io vi mando il solito bacetto vi saluto ci rivediamo spero in serata se no male che va in nottato ormai ci siete abituati lo sapete ciao